Non ci credo, no ragazzi questo è il meme definitivo, questo è il meme definitivo Tre sorelle che han fatto un patto Eh, però non so quanto durerà, cioè sì è figo il filo altro ma Cioè hanno cambiato qualcosa oltre il fatto che sia di nuovo season 1, non lo so Eh, come si chiamavano le tower al centro della mappa, come si chiamavano pure Raga, avevano un nome, no, le tower al centro della mappa, ho sbaglio Le tilted towers, esatto, esatto Figata, oggi pomeriggio voglio dare un occhio Aircateron Eh, vedi, il discorso di sto Pokémon qua è che prendiamo un fracco di danni Abbiamo veramente pochi HP, troppo pochi Cioè Vediamo In che senso come ha fatto a far Brock, è una bomba ragazzi, ho shotato tutti con Hyper Voice Tipo Cioè ma, lo vedete quanto attacco speciale c'ha? Forse no In che senso come ha fatto a far Brock ragazzi, c'ha Sacred Fireburn al 100% Che è una bomba a mano Merda ma davvero bro Ragazzi Come fate a dire che, ma io non capisco se siete serio o altro Che dite che non ha abbastanza attacco speciale per one shotare Cioè, capite che questo qua All'attacco speciale È molto più alto di tanti Pokémon che vincono la Lega Cioè Ha più del triplo del livello È un casino Non so come facciate a dire che non ha Non so se siete serio o cosa Ai 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 Volevo non fare le Hyper perché L'avevo già preso questo, no? E uno I like pasta Iguala pasta Vandasfera e basta Ma come cazzo è possibile che resista? Magikarp solo ha difeso Ci ha poi tolto uno di roll out infatti Carpianda Dragon Rage Che palle Buono Palle i danni presi a caso Eh Boh, io farei Hyper Più di 400 di difesa arriva, secondo me Al 100 Not pro player Non ci vuole Basta troll per favore Non abbiamo bisogno di altri troll bro Ti prego Non anche te Ti prego non anche te bro Ai 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 Boh, non mi curerei ora Non so se curare sinceramente rega Andiamo al 30 Anche Sono tenuto le mosse buone Ora Nice Buono Ma lo sai benissimo Ma lo sai benissimo qua all'inizio Not pro player Ti vedo sempre in chat da poli bro Ti vedo sempre in chat da poli O sono pazzo io O lo sai benissimo Abel Non la insegnerei La mossa è extreme speed Avevamo lo slave in squadra No noi 6 dicembre inizia la pillar Andrei di Hyper voice quasi Sai qua Niente bet Se vuoi farle Falle Cowson Mi devi chiedere l'autorizzazione Per farle bet Vorrei delle mosse speciali Più che altro Perché ho l'attacco speciale Abbastanza più alto E non abbiamo mosse speciali Per ora Io vorrei delle mosse speciali Qua vediamo Se riusciamo a hittarle Finiamo sta pale Picture Ho aperto Genshin Ahia fede Male Molto male Buono Eh beh Insomma bro Non ci credo No ragazzi Questo è il meme definitivo Questo è il meme definitivo Questo è il meme definitivo Merda Non ci credo Doppio pineto Doppio pineto Doppio pineto Il più spammato Sempre comunque Nei preferiti Doppio pineto Nella sfida Coppie Merda Merda Pazzesco Pazzesco Merda Questo è il meme definitivo Doppio pineto Porco Mamma mia Merda Pazzesco Doppio pineto Capo Cioè Questo veramente Hyper hit Entrambi No Oltretutto Pinechi Pinechi Gli stirati No 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 Ma entrambe le difese alte questo comunque Ma quante cazzo di core usano porco dios però Buono Eh Non la insegnerei no Perché se Eh ragazzi Non la insegnerei Jump kick no I jump kick no I jump kick no Eh Cioè Mamma mia Non mi dà il tempo di segnare Dio cane Comunque RGG gas È più difesa speciale Ricordiamoci Appena lo ribeccolo Lo segno Nice Buono Madonna Che broc è stato Cioè che broc è stato Che pokemon aveva Un pokemon normale Qua crepava Sempre Te lo dico Eling wish La merda bro Com'è sto giratina Capi Vi garba Non vi garba Come vi sembra To Flinch Buono Hyper voice Ha una difesa disumana Difesa disumana Special defense Alt Trambe alto Cioè più che altro Quando è che dovrebbero Resettare la season Di Di battlegrounds Rega Che non Non ha mica detto Questo Better now Ok Nice Una bomba Sei andando a Luca Matti Vic Yeah you know me God's plan Ah in montagna In mountain vai Damn bro Yeah Andiamo di hyper voicing Che sgheio In montagna Cioè Non è detto che va A curma Ma io era A far Chi c'è Calma Bro Ah Matti Perché ti ha Abbannato 15 giorni L'account Montis Ha offerta Da twitch Ma che hai fatto Ma che hai fatto bro Ah cazzo Avevo capito 15 giorni di vacanza Da twitch Che hai combinato Ah ok 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 Minchia ma non pensavo 15 giorni Però Io porco 15 giorni Socio Si però non pensavo 15 giorni Cioè pensavo meno Ti avessero dato il Ho ricordo ora per cosa Ci stava Ve l'ho anche detto Dopo di andarci più leggeri Ti avevo detto di andarci più leggeri Con quei tipi di robe no Cioè di messaggi Eh Matti Vic È borghese ragazzi C'è la tipa con gli sghei C'è la tipa con gli sghei Il Matti Vic Che ci devi fare bro Niente bet oggi Se qualche modo dopo le vuole fare Si fanno Per ora Non c'è nessun modo che le fa Quindi no Oserei anche dire Probabilmente Adesso ve le faccio le bet Cioè dopo quando siamo alla torre bruciata Eccetera Che comincia ad essere tutto più tosto Ve le faccio Merda che palle raga Sta roba Non è più veloce Semplicemente che a Fare i spang Penso Cos'è che ha fatto Snudge Hai 9 account Fermati su LOL Minchia ragazzi Però siete veramente degli animali Ho io i tempi su Airstone Però non mi hanno mai Fermato un account Però i tempi su Airstone Probabilmente qualche volta Sarei potuto esserlo da Minchia Questo è un male raga Aia Super F però abbiamo infinito difesa Quindi De Geo Madonna però ragazzi Porco dio Cioè Se mi fa una speciale Vado al bar Non so se lui è più attacco Più difesa Bisogna vedere dal Io qua farei un poison jab pulito Venozaur si becca Ice Fang forse Buono Gorebis si becca Penso Hyper Voice A Soundproof Lui ha fatto Cioè ragazzi Vi rendete conto Potrebbe avermi salvato Soundproof Bro Pazzesco Potrebbe essere stato Soundproof A salvarmi Dalla roba Ricapi Incredible bro Poison jab Pazzesco Soundproof Che cuore Merda Salvato da Sound Però magari lo shottavo Quindi Anche perché di difesa era alto Quindi Magari l'avrei shottato Quindi Boh Una merda La stati M No Ho letto male Sì E la garavaglia La metto in c Scherzo Potete votare le bet Sì sì Ho messo solo bet Full clear Rega Tanto è sottinteso Questo Ma Matti Stai guidando Anche I miei mod Sono un po' Andiamo di Secondo me Secondo me Sfeng Ok Tanto Cioè Dobbiamo ricordarci Che noi Stai scherzando Merda Grof è bella Porco dio Una setup qua Non è male Voglio togliere Voglio togliere Poison jab Per grof Però poi ho pochi pp Non lo so Che altro non abbiamo speciali Per ora Però la setup è l'unico modo In cui sto Sto pokemon Può vincere E Secondo me Poison jab Non la uso quasi mai C'è da dire Pp non ne ho comunque pochi E poi magari troviamo Un'altra mossa Dopo Eh il punto è che grof Cioè non è detto che io Trovi un'altra setup Poi qua E senza setup Secondo me Non può vincere Qua è tosta Cioè voi cosa fareste Capi Forse stegniamo così Sapete E magari troviamo Più avanti Roba Non lo so Le mosse le ho imparate tutte Però abbiamo le mosse Per i full clear Le pale Boh Give up Vai Tide flow Eh la cosa buona Di sto pokemon È che abbiamo Sacred fire burn È al 100% E quella la senti Come cosa Socio parecchio La senti Me first Vorrei provare Un poison Qua Questa è una palla bro Proviamo un hyper Ma no Questo Oh madre Questo era il counter È vero Madre Questo era il counter È vero Oh mamma Questo era il counter Di ieri Il punto è che Sembra aver perso Special rendo Ora Merda Merda raga Che palla Cristo Abbiamo la percentuale Di fringe Abbastanza Allora No non lo posso Usare qua X attack Rega dai Cioè quasi Chilla per ora Non mi toglie vita Li devo tenere Gli strumenti X Se arrivo avanti Piuttosto non faccio Il full clear Cioè scusatemi Forse sacred Shot Ora vediamo No Ho sprecato un sacred Perché pensavo Eh di era roll Raga devo attaccare Qui Eh qua era buono Growth per dire Proviamo un poison Tanto lui è sicura Forse Perché se io non lo attacco Lui non usa recover Quindi io lo devo attaccare Cioè io lo devo attaccare Altrimenti lui non fa recover Eh però I spengono Vorrei tenere anche Devo spammar poison qua Ok dai Ultimo Nice Ora tecnicamente Possiamo ittari Userei poison jab Minchia però Non gli toglie Veramente nulla Poison jab Vabbè qua Io in realtà Potrei anche Spammare ball Così risparmi BP Tanto mi toglie 3 di vita Non è che Eh ma ragazzi Non posso usargli Elisir Minchiate varie qua Cioè questo è il discorso Minchia però ragazzi Porco dio Porco dio Cioè Ok Eh no ma qua avevamo anche intimidate sul pokemon Fate conto Avevamo anche intimidate sul nostro pokemon Magnezone si becca Penso Sacred fire No Buono Credo si becca Buono Non penso Non penso riusciremo a fare il full clear qua A meno che non troviamo un PP max Gastro acid Penso si ok Toglio l'ability Ma questi cazzi Non è un problems Rega ora che stanno entrando un po' i kizers Presumo Adesso non tengo mai il counter dei viewer attivo Però presumo stiano entrando un po' i kizers Perché abbiamo switchato da un attimo sulla kizer Da un attimo In realtà da una mezz'ora Penso che da di più Fatemi sapere cosa ne pensate di punto esclamativo challenge Se la vogliamo cominciare questa settimana o quella dopo Secondo me per quando finisco le run O fare Qualche Già cominciare qualche volta Prima delle run della pilla Può essere una cosa figa Fatemi sapere Fate punto esclamativo challenge Inciate Fatemi sapere cosa ne pensate Adesso sistemo il comando Perché mi mette attaccati i punti esclamativi E la parola dopo Ma quella lì è una Avremo i gettoni proprio Fatti a web app Gettoni e try Fatti a web app Cioè quindi sarà tutta una roba Una roba esotica ecco Fatemi sapere se vi garba Da fare Secondo me è divertente Più che altro Piede almeno 400 sul conto Iron buono Cioè buono Lo usereste iron qua Non lo so 20 gettoni minchia Sì però in 5.3 bro Devi vincere la lega I gettoni sono considerati usati Anche se il pokémon ti muore In quel caso Cioè tu prendi un pokémon buono All'hub ma ti muore Cioè il gettone è usato Ok Quindi considera che In quel modo Si intende No ma non c'è la 104 plus Su FireRed FireRed è la lega La Kaizo originale Buono Buono E vabbè rega Magari non lo sa Cioè nel senso Non siate aggressivi Con la gente che chiede Shockwave Però non è insegnabile Mai Cazzo questo sarebbe buono Andrebbe su Hyper Voice Prolly Non lo so Sacre Dio Farei qui Minchia assurdo Che sia resistito Adesso non so Quanta special difensabile Ma di difesa ne ha Infinita Buono Buono Ma si ora ho messo 5.000 try Possiamo far meno Possiamo far tipo 3.000 try 4 leghe Cioè Ho messo 5.000 Ma è modificabile In base a quanto Ci sembra più consono fare Bo raga Devo fare per forza Sacre Da questo Perché io ho fatto Madonna Non volevo fare A sto punto Quasi quasi Ma non faccio No A sto punto Quasi quasi tiro la ball Così muore di coso Tanto è l'ultimo trainer Cioè È l'ultimo trainer Mancano le bimbe qua Potevo dirla in modo diverso Che mancano le bimbe Però ok Ah Io farei Sfeng Su Flygon Sicuro Questo è Tirable Devo fare Poison Coso L'altro Devo fare Poison Coso Buono Facciamo una cosa Mi killo il mio Io prima Secondo me Nice Pulito no? Full clear pulito Qua direi Giusto capi Vai Guarda la formula 1 Oggi capo Sì Voi? La commenteremo su telegram Come ieri sera Correngone Eccetera Che se la guardano tutti La guardo La guardo sicuro La guardo sicuro Cioè Dalle 3 Alle 3 45 Ci dovrebbe essere La Quali erano gli orari Pure oggi L'avevano girato Sul gruppo telegram Gli orari Bella Davide Ben entrato nel gruppo Anche prima punta Ben entrati Cari Fatemi vedere Un attimo Qual era Eh cazzo Che l'hanno inviata Troppe ore Fato 13 qualifiche No 15 15 19 30 sprint Ok Quando stacco Ci sono le Timing Perfetto Tanto staccherò Alle 15 Oggi circa Ve lo dico Dopo verso Fine live Forse Possiamo provare A fare un nome Cosa di città Con la chat Oppure domani Vediamo Oggi e domani Secondo me Può starci Provare il nome Cosa di città Con la chat Tipo Make it meme C'è proprio il link Così Che droppi in chat I primi che entrano Fanno Però dovete essere maturi Rega Vi anticipo Dovete essere maturi Capi Andiamo di hyper voice Qui E figo C'è il link Droppato in chat Chi entra Può partecipare L'ho provato L'altro giorno Off stream E sburo Come lo vedete Sto weekend Cioè più che altro Ieri Mi sa che non le ho viste Tutte le qualifiche Cioè c'è stata la bandiera rossa Ma poi ha ripreso No La La gara Post bandiera rossa Cioè le qualifiche Non la gara Chiaramente Non ho visto Tutto 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 Sai che Non mi ricordo Neanche chi ha finito Questo era quello Che aveva mirror coat Però Aveva soundproof Quindi comunque Non andava a segno Che livelli fa Cristo Ah finite subito dopo Quindi chi parte Esattamente Cioè com'è la griglia Di partenza Domani Cazzo che La Mercedes Sembrava andare Però si vede Che hanno aspettato Troppo a fare il giro C'è stata la bandiera Anche perché Mancavano ancora 4-5 minuti Quando ho visto Alla Alla roba Però Poi la gara Bisognerà vedere Cioè tutto è fattibile Tutto è possibile In gara Vedremo Secondo voi Ce la può fare Lewis A A fare il big stuff Buff diciamo Buff diciamo Merda che palle Provo passo Qua si può fare carta Vero Che carta c'è qua? C'è una carta in sta palle Rega da fare Non che io sappia Non che io sappia bro Non che io mi ricordi C'è carta Cazzo Sai che non so Forse devo rifare sacra Palle Guarda che abbiamo anche il pp up da usare Se vogliamo noi È vero cazzo Solo che volevo aspettare Di vedere Un paio di mosse in più Magari di due capi palle Per capire Qual è Lo spot migliore Su cui giocare il pp up Perché per ora è sacra Però ammetti che imparo Madonna La speed è ridotta Una merda Ammetti che imparo Questo è terribile Madonna Quanti furrest hanno Porco dio Non ci sto a credere bro Mamma mia Bella Bella Vez Il chop Buono Cos'è sta TM pure Che TM mi ha dato Rega Non è Dragon Pulse Qual era Il numero Ah Curs 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 Capo Curs 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 Grazie a tutti